Visto le elevate temperature di questi giorni, come sindacato del settore edilizia chiediamo la sospensione dei cantieri, soprattutto dove ci sono attività all'esterno. Non è un problema per quanto riguarda le aziende, neanche per i lavoratori, perché c'è una comunicazione dell'Inps e dell'Inel che prevede la cassa integrazione nel momento in cui si superano i 35 gradi. 35 gradi che anche se percepiti, anche con l'umidità, quindi i 35 gradi possono essere contabilizzati così. C'è questa possibilità, le aziende si possono attivare a chiedere la cassa integrazione per cui possono sospendere praticamente tutte le attività. Tutto ciò si rende necessario per evitare intanto malori, soprattutto dopo delle alte temperature, delle maestranze, ma soprattutto evitare infortuni anche di natura grave. Quindi contiamo sulla disponibilità delle aziende, anche come OPT, come ente della sicurezza in qualità di vicepresidente, abbiamo mandato e stiamo mandando alle imprese, ai committenti pubblici, una nota in cui chiediamo di attivarsi per sospendere tutte le attività di cantiere, soprattutto nelle ore più calde delle giornate.